La sessione di bilancio nel Consiglio regionale della Puglia si è aperta con sei delle sette commissioni consigliari che hanno vagliato il documento di economia e finanza regionale e i due disegni di legge relativi all'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020. Ma immediate sono state le polemiche politiche. Ad aprire il fuoco di fila contro la maggioranza definita allo sbando dai consiglieri del Movimento 5 Stelle sono anche le altre forze politiche di opposizione. Ancora i consiglieri pentastellati puntano il dito sul metodo istituzionale. Non possiamo accettare che la documentazione sul bilancio sia stata depositata 24 ore prima dell'inizio delle commissioni accusano. L'arroganza della Giunta Emiliano sostengono invece i consiglieri di direzione Italia ha imposto un tour de force a quella che dovrebbe essere la più importante discussione politico-amministrativa dell'attività del Consiglio regionale. E anche Forza Italia accusa la Giunta di tempi risicati. Ci chiediamo, sostengono i consiglieri, come si possa discutere e studiare un documento così corposo avendolo ricevuto all'ultimo minuto. Centrodestra e 5 Stelle hanno espresso parere sfavorevole in commissione ambiente e l'impossibilità di esprimere un paliere in commissione di affari istituzionali. Il voto a maggioranza invece è servito nelle altre quattro commissioni, affari generali, servizi sociali, sviluppo economico e lavoro. Tra i provvedimenti approvati uno stanziamento di 20 milioni di euro in favore del servizio sanitario regionale per far fronte agli investimenti già sostenuti dalle ASL nel 2017, poco meno di 5 milioni di euro per gli interventi di efficientamento energetico nel 2018 previsti dalla commissione sviluppo economico, 3 milioni di euro per i distretti urbani del commercio, 3 milioni di euro stanziati anche in materia ambientiale in favore dei comuni per sostenere l'attività di contrasto all'abbandono dei rifiuti.